Non verranno tagliati gli alberi che si trovano nello spiazzo antistante la stazione dei treni di Castel San Giovanni. Alcune delle alberature presenti avrebbero infatti dovuto essere abbattute per lasciare spazio ai lavori relativi alla costruzione del sottopasso. Il manufatto cioè che una volta realizzato consentirà di attraversare in tutta sicurezza i due binari, binari che oggi viaggiatori devono invece attraversare tramite una pericolosa passerella di superficie. A chiedere la rete ferroviaria italiana di preservare gli alberi la scorsa estate era stato il sindaco Lucia Fontana durante un incontro con i responsabili del progetto relativo al sottopasso. Per quanto riguarda gli alberi sul piazzale esterno, fa sapere RFI, come concordato con il comune abbiamo modificato la modalità di costruzione dei muri della rampa in uscita dal sottopasso. Questa modifica consentirà di salvaguardare le radici degli alberi. Stiamo provando a preservarli tutti. Restano invece ancora un'incognita i tanto attesi lavori per la costruzione del sottopasso ferroviario. Lavori di cui da due anni si attende l'avvio e di cui a più riprese è stato annunciato l'inizio ma che ad oggi per lungaggini varie tra cui quelle legate allo scoppio della pandemia non sono ancora partiti. La ditta che effettua l'intervento, fa sapere sempre RFI, ha installato il cantiere e recintato le aree interessate sia a nord che a sud. I lavori veri e propri inizieranno entro la fine di ottobre. Il sottopasso è importante non solo perché consentirà di mettere in sicurezza l'attraversamento dei binari nella stazione di Castel San Giovanni, ma anche perché completerà il progetto di pista ciclopedonale tra la stazione dei treni, la zona produttiva e il parco logistico, progetto che in assenza del sottopasso rimane fortemente limitato.